Media per la Sardegna la nostra isola nel mondo e soddisfare le esigenze del cliente. Un progetto editoriale unico per valorizzare il patrimonio identitario, grazie alla redazione integrata in cui convergono carta, internet, tv e radio per un panorama di informazioni da avere quando, dove e come si vuole. Un free magazine con nuovi giornalismi a vantaggio di business editoriali. I free press Sardegna Sud-Est, Sardegna Sud-Ovest, Sardegna Nord-Est e Sardegna Nord-Ovest vengono diffusi in accoglienza attraverso il comparto ricettivo locale e gli uffici turistici territoriali e raccontano di vite familiari, di feste religiose, di eventi, arte, storia e natura per presentare al turista le eccellenze dell'isola. Sardegna è il free press mensile che raccoglie e diffonde le migliori selezioni con esclusive opportunità nel settore del turismo. Sardegna sarà distribuito attraverso i vettori navali, che impegnano le rotte da e per la Sardegna e attraverso le linee aeree che garantiscono numerose presenze internazionali. Tutto decisamente free press Quale formato? Tabloid, ovviamente. Ma l'offerta è molto più ampia. Come per i magazine, le stesse attività promo-redazionali riverberano nel web attraverso quattro portali internet iperlocali dedicato al sud-est, sud-ovest, nord-est e nord-ovest. I quattro web portal nascono per alimentare il brand Sardegna nel mondo. Tutte le informazioni turistiche online saranno a portata di smartphone integrate e condivise con i principali social network. Una redazione integrata non solo online, ma anche attraverso l'apertura dei più classici canali TV. Canali tematici sul digitale terrestre, sulla web television, per la trasmissione di documentari fruibili in più lingue per amplificarne l'ascolto ovunque. Case, alberghi, a bordo di vettori navali e aerei. Testi, video e immagini a disposizione del turista, sviluppati in tanti canali mediatici, carta, web, TV, infopoint, Wi-Fi e in tutti i display dei terminali mobili. Con l'impiego delle più innovative applicazioni sviluppate per l'editoria, il lettore potrà visionare i contenuti multimediali con un forte impatto, capaci di integrare web television e internet per lo sviluppo di campagne pubblicitarie condivisibili attraverso tutti i nostri media. Questa è la nostra visione per un progetto di redazione integrata, un'innovativa convergenza di tutti i media, abilmente inseriti e condivisi al servizio del turismo e del turista. Grazie a tutti.